Gli obiettivi dell'assenso sono estremamente sfidanti per le rinnovabili, molto importanti, addirittura superiori a quelle che erano l'attese prima della strategia energetica nazionale. Occorre però che non siano una promessa mancata, un'opportunità mancata. Ciò vuol dire mettere in atto non soltanto alcuni degli aspetti che per quanto riguarda la nostra attività eolica e fotovoltaica sono i più attesi, quelli relativamente al decreto sulle aste, ma mettere in atto tutti quegli altri aspetti della riforma del mercato elettrico che consentirebbero veramente alle energie rinnovabili di decollare. Penso alla possibilità di partecipare al mercato del servizio di dispacciamento, ovviamente nel rispetto dei vincoli delle fonti rinnovabili. Penso a un diverso approccio alla contrattazione dell'energia perché il sistema con cui attualmente è sviluppato il mercato elettrico, cioè quello del prezzo marginale, è figlio di un tipo diverso di mix energetico, nelle quale le rinnovabili, cioè queste fonti di energia che sono molto capital intensive, evidentemente non rispecchiano più questo sistema di contrattazione dell'energia. Pertanto è importante spingere il sistema delle aste come sistema di programmazione del mix energetico futuro dove effettivamente in questo senso le energie rinnovabili potranno avere uno spazio che si meritano. Grazie.